Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi ha suscitato un forte interesse mediatico e sollevato questioni importanti riguardo alla tutela delle donne e alla prontezza d'azione della polizia. E nel 2015 ci troviamo a Eryth, un quartiere che si trova nell'area sudorientale di Londra. La protagonista di questo caso si chiama Sian Blake, nasce nel 1972 e ha 43 anni. Sian è originaria del quartiere di Walthamstow, nel nord-est di Londra, dove è nata e cresciuta. Sua madre si chiama Pansy, mentre suo padre si chiamava Lloyd ed era venuto a mancare a causa di un attacco cardiaco quando Sian aveva circa 18 anni. Sian ha una sorella maggiore di nome Eva e un fratello maggiore di nome Roger. È sempre stata molto legata ai suoi familiari e, pur essendosi allontanata un po' nel corso degli anni, ha mantenuto i contatti con loro. Infatti li va a trovare ogni volta che può. Sian Blake è una donna affettuosa, socievole e vivace con un bellissimo sorriso. Fin dalla tenera età ha sviluppato un'autentica passione per la recitazione. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un'attrice. Infatti nel 1991, all'età di 20 anni, ha intrapreso un percorso di studi triennale alla Guilford School of Acting nel Surrey. Nel 1994 Sian ha ottenuto il suo primo ruolo d'attrice, apparendo in un episodio di Casualty, una serie drammatica medica molto famosa in Gran Bretagna. In seguito, nel 1996, Sian si è conquistata il ruolo per cui è più conosciuta, recitando nella sopopera EastEnders. Sian ha interpretato la parte di una donna di nome Frankie Pierre, che è apparsa in circa 56 episodi. Questo personaggio intrattiene una relazione con un uomo sposato, di conseguenza non è risultato particolarmente simpatico al pubblico. Sian è entrata nei panni di Frankie Pierre con grande abilità, è stata così convincente che molti spettatori dello show hanno in un certo senso dimenticato che lei stava soltanto recitando. Infatti, Sian, nella vita reale, è un'altra persona. Purtroppo ha ricevuto numerose lettere cariche di odio da parte dei fan della sopop, comprese minacce di morte. Insomma, il pubblico proprio non è piaciuto il suo personaggio e si è scagliato contro l'attrice. Queste situazioni si verificano spesso, è successo anche ad altri attori che interpretavano personaggi negativi. E io, onestamente, trovo questa dinamica bizzarra e assurda. Perché gli spettatori non riescono a distinguere l'attore dal personaggio? Sian ha smesso di recitare in EastEnders nel marzo del 1997 e nel corso degli anni a venire ha ottenuto piccoli ruoli o fatto delle comparse in diversi show. Tuttavia non è più stata ingaggiata per ruoli più duratori, del resto si sa che quello dell'attore è un mestiere dove le incertezze non mancano. Sian però non si è mai arresa. Il suo agente racconta che è sempre stata disposta a mettersi in gioco, ha partecipato alle audizioni per parti diverse di quelle già interpretate e, oltre alla televisione, ha recitato anche in qualche spettacolo teatrale. La sua carriera da attrice si è interrotta quando è diventata madre, ma lei aveva già un secondo lavoro come insegnante della lingua dei segni. Insieme al suo compagno Arthur Simpson Kent, Sian ha messo al mondo due figli, Zachary, che ha otto anni all'epoca del caso, nel 2015, e Amon, che ne ha quattro. Sian è una madre straordinaria, ama così tanto i suoi bimbi, sono la sua priorità. Nel 2015, Sian e il suo compagno Arthur e i loro figli vivono in un bungalow a Pembroke Road, appunto a Erith, nel sud-est di Londra. Ora scopriamo un po' di più sul suo compagno, Arthur. Lui ha 49 anni ed è originario del Ghana, un paese dell'Africa occidentale. Ha lavorato come modello, ha fatto il parrucchiere per alcune celebrità e, al momento, svolge qualche lavoretto come pittore e decoratore. Quando aveva conosciuto Sian, Arthur era già stato sposato con una donna francese di nome Dominique, incontrata nel 1994, e i due avevano già messo al mondo una figlia. Arthur e Dominique si erano trasferiti in Francia, dove presto erano emerse tutte le crepe del loro matrimonio. Sembravano lontanissimi i giorni del loro primo incontro, quando Dominique si era invaghita immediatamente di Arthur, un uomo che sembrava amorevole, solare ed restroverso. Si era innamorata di lui proprio per il suo carattere, ma col tempo Arthur era cambiato, era diventato addirittura aggressivo. Aveva svelato un lato dominante e aveva iniziato a controllare sua moglie in modo ossessivo, il che aveva portato la coppia a discutere molto. Un articolo che ho consultato riporta che Arthur era fisicamente violento sia nei confronti di Dominique che, purtroppo, della loro figlia. La polizia era stata chiamata più volte dal loro domicilio per segnalare gli abiti di Arthur. Poi, nel 2003, dopo quasi dieci anni di matrimonio, la coppia aveva divorziato. Arthur era tornato a Londra nel 2005 e poco dopo aveva iniziato una relazione con Sian. Come già vi ho detto, Sian e Arthur hanno due figli, anche se un articolo riporta che Arthur in realtà è padre di ben otto figli, avuti da donne diverse. In ogni caso, anche durante la relazione con Sian, Arthur si dimostra violento, ha un comportamento dominante e manipolatorio. Arthur vuole esercitare il suo controllo su ogni aspetto della vita della sua partner, e nel corso degli anni la situazione è peggiorata sempre di più. L'uomo è aggressivo e manesco nei confronti di Sian, la maltratta fisicamente, proprio come aveva fatto con la moglie Dominique. Alla fine del 2015 la vita di Sian si complica ancora, anzi, viene completamente sconvolta, perché scopre di avere una malattia terminale del moto neurone, una patologia degenerativa che colpisce il cervello e i nervi. Questa diagnosi devasta Sian completamente e in effetti lei si sente sempre più debole e molto debilitata. La sua salute, ahimè, è destinata soltanto a peggiorare. Sa che prima o poi avrà bisogno di ricevere particolari cure e assistenza. Questa condizione le suscita un enorme contrasto interiore, perché Sian si è sempre presa cura degli altri, dei suoi figli, del suo compagno, insomma è sempre stata lei la principale sostenitrice della famiglia e anche quella che guadagna più soldi nella coppia. Ora però è proprio lei che ha bisogno di essere accudita. Nonostante la sua necessità di ricevere supporto dopo averlo sempre fornito, Sian interrompe la relazione con Arthur perché non tollera più il suo comportamento controllante e offensivo. La donna decide che presto si trasferirà da sua madre Pansy insieme ai figli, in modo da essere assistita da chi le vuole bene fino alla fine dei suoi giorni. Anche se i medici non avessero comunicato a Sian quanto esattamente le resta da vivere, sappiamo che la sua è una malattia terminale. Domenica 13 dicembre del 2005, Sian viene accompagnata a casa di sua mamma a Leighton, nella zona est di Londra, che dista poco più di 40 minuti di auto da Aerith. Sian ha programmato di passare un po' di tempo con sua madre e sua sorella, gustandosi un ottimo pranzetto domenicale, come ha sempre fatto. Nell'ultimo periodo, però, Sian va a trovare la sua famiglia una domenica sì e una no, perché non riesce più a guidare. La malattia sta avanzando e lei è costretta a fare affidamento su Arthur per avere un passaggio, ma lui si rifiuta di portarla fino a Leighton ogni fine settimana. Dunque, tornando al 13 dicembre, Arthur accompagna Sian a casa di sua madre, poi porta i figli, Zachary e Amon, alla Play Farm, un parco giochi al coperto dove i bambini si intratterranno mentre Sian pranza con i parenti. Più tardi, in serata, Arthur va a riprendere Sian per riportare lei e i bambini a casa, a Aerith. Tuttavia, passano le ore e la madre di Sian nota qualcosa di insolito. Sua figlia non si è messa in contatto con lei per farle sapere che è arrivata a casa e che sta bene. La donna è solita chiamare o mandare un messaggio a Pansy al suo rientro, quindi questo silenzio la stranisce, ma al momento lascia correre. Il giorno successivo, però, Sian continua a non chiamare né sua madre né qualsiasi altro membro della famiglia e non risponde alle telefonate. I parenti cominciano ad andare in apprensione e non soltanto per Sian. Infatti, una delle sue zie contatta l'NSPCC, cioè Società Nazionale per la Previdenza della Crudeltà sui Bambini, che è un ente di beneficenza per la protezione dei minori presente nel Regno Unito. La famiglia di Sian teme che Zachary e Amon possano aver subito dei maltrattamenti e questo ci fa comprendere che i parenti sono consapevoli del temperamento aggressivo di Arthur. Infatti avevano già spronato Sian a lasciare il suo compagno proprio per questo motivo. In seguito viene anche contattata la polizia, la quale scopre che i familiari non hanno più avuto notizie di Sian dal 13 dicembre, cioè da due giorni, quando la donna è stata vista per l'ultima volta a Leighton. Ma proprio nella giornata del 15 dicembre Sian si fa viva, inviando un paio di messaggi alla sua famiglia dal proprio telefono. Scrive che vuole essere lasciata sola e che ha deciso di andare via per un po' con i figli. a Cambridge. Questo perché sa che non le rimane molto tempo da vivere. Probabilmente sta per trascorrere il suo ultimo Natale e vuole condividerlo intimamente con i suoi bambini. Queste parole non assicurano affatto la famiglia di Sian, la quale dubita che lei sia la vera autrice di questi messaggi. La scrittura non rispecchia quella con cui Sian si esprime solitamente nelle sue comunicazioni. Infatti, prima di tutto, contiene vari errori di grammatica e di ortografia ed è sorretta da frasi molto sintetiche. Sian non solo sapeva scrivere in modo corretto, ma mandava sempre messaggi piuttosto lunghi. E soprattutto, non rientra nel carattere di Sian decidere di sparire così, senza anticipare le sue intenzioni. Lei è tanto legata alla sua famiglia e non la farebbe mai preoccupare in questo modo. Quindi, secondo i parenti della donna, qualcuno ha utilizzato il suo cellulare per scrivere e inviare quei messaggi. Ma chi? E perché? Il giorno seguente, ovvero il 16 dicembre 2005, la polizia si dirige a casa di Sian, a Erit. Come anticipato dai messaggi, Sian e i suoi due figli non sono in casa, ma Arthur sì. La polizia dunque chiede a lui informazioni. Dove si trovano Sian e i loro figli? Arthur conferma di aver portato la sua compagna e i bambini a Cambridge. Sian ha deciso di alloggiare a casa di un'amica perché ha bisogno di un po' di spazio, di ritagliarsi del tempo per isolarsi dopo la tragica diagnosi. La polizia, in linea di massima, crede ad Arthur, ma, secondo un documentario che ho visto, alcuni agenti tornano a casa sua a distanza di qualche giorno per verificare se Sian e i bambini siano tornati. Tuttavia, quando bussano alla porta, non ricevono alcuna risposta. Sembra che nell'abitazione non ci sia nessuno, nemmeno Arthur. Nonostante le preoccupazioni sollevate dalla famiglia di Sian, le autorità non intervengono ulteriormente, convinte che lei si sia allontanata di sua spontanea volontà per dedicarsi a se stessa e ai suoi figli in solitudine. Quindi, inizialmente, questo caso non viene considerato abbastanza dalla polizia, il cui operato risulta a dir poco deludente. I detective sono quasi certi che Sian tornerà, come suggerirebbero i suoi messaggi. Ma i giorni passano, diventano settimane e né Sian né i suoi figli rincasano. Inoltre, anche Arthur, guardate un po', sembra svanito nel nulla. Arriva Natale, sono passati 12 giorni da quando Sian è stata vista l'ultima volta e nemmeno in questa occasione la sua famiglia riceve un messaggio o una chiamata da parte della donna. Eppure Sian, prima di scomparire, aveva comunicato la sua volontà di trascorrere le feste a casa di sua madre, insieme ai bimbi. L'assenza di ogni traccia, persino in questa ricorrenza natalizia, preoccupa ancora di più tutti i parenti. Posso soltanto immaginare l'angoscia che devono aver provato in questo periodo. Sono convinti che a Sian sia accaduto qualcosa di brutto. Così ricontattano la polizia e li implorano di avviare un'indagine per rintracciare la donna e i bambini. Una madre e i suoi due figli sono scomparsi da quasi due settimane e potrebbero essere in serio pericolo. Finalmente la polizia entra in azione. Meglio tardi che mai, no? Il giorno di capodanno del 2016, i detective lanciano un appello pubblico invitando chiunque abbia qualche informazione su Sian e i figli a farsi avanti. Magari sono stati avvistati da qualche parte. L'appello viene immediatamente intercettato e diffuso dai media. Infatti i titoli dei giornali riportano che un'extratrice di EastEnders è scomparsa. Solo pochi giorni dopo l'appello, il 3 gennaio 2016, viene individuata la macchina della donna in un quartiere nell'East End di Londra chiamato Bethnal Green. La zona dista più di 16 miglia da Erith, dove Sian viveva. Questo ritrovamento genera molta confusione sia nella polizia che nei familiari di Sian. Si chiedono perché l'auto sia stata abbandonata lì dato che la donna non conosce nessuno in quel quartiere, non ha parenti né amici che vivono lì. Come c'è finita la sua macchina da quelle parti? Questo sviluppo del caso, per quanto importante, non fornisce alla polizia alcuna risposta su cosa sia potuto succedere a Sian. Soltanto adesso i detective pensano che la sparizione della donna possa essere correlata a un fatto grave. La loro convinzione è che Sian si fosse allontanata spontaneamente. Si smantella ora. Temendo che lei e i bambini siano in pericolo, la squadra di polizia metropolitana locale, quella che si sta occupando del caso, decide di affidarlo ai suoi superiori. Viene quindi assegnato alla squadra di comando omicidi e crimini importanti di Londra, che è un'unità di comando operativo della polizia metropolitana responsabile delle indagini su omicidi e altri crimini gravi. Finalmente iniziano queste benedette indagini, questa volta per davvero. Nel frattempo il caso continua a essere trattato dai giornali e il volto di Sian appare su tutti i notiziari. Cioè nonostante la polizia non ne trae suggerimenti o indizi utili, non riceve nessuna segnalazione su potenziali avvistamenti della donna. Questo accresce la preoccupazione. Potrebbe voler dire che Sian e i bambini sono morti? Se fossero ancora vivi probabilmente qualcuno li vedrebbe e si farebbe avanti, anche perché Sian è un'attrice piuttosto conosciuta. Come detto aveva recitato in una delle più importanti soap del paese, di conseguenza la gente conosce il suo viso, ma nonostante questo non c'è traccia di lei da nessuna parte. La polizia a questo punto conclude che bisogna perquisire la casa di Sian a Pembroke Road, a Eryth, per individuare eventuali tracce della donna e dei suoi figli. Il 5 gennaio 2016 una squadra forense, supportata da dei cani poliziotto, ispeziona l'abitazione. Ed è così che arriviamo al risvolto più agghiacciante di questa storia. Scavando nel terreno del giardino sul retro, la squadra forense trova tre corpi senza vita, sepolti in fosse poco profonde e avvolti nella plastica. I tre corpi vengono identificati come Sian Blake e i suoi due figli, Zachary e Amon. Sono stati tragicamente assassinati. L'autopsia stabilisce che tutti e tre sono morti a causa di diverse ferite inferte al collo e di altre lesioni da corpo contundente riportate alla testa. Sono stati brutalmente picchiati a morte, ma l'oggetto con cui sono stati colpiti non viene mai trovato. Alcune fonti affermano che, oltre a riportare queste ferite, le tre vittime sono state anche strangolate e accoltellate, perché probabilmente l'assassino voleva assicurarsi che morissero. È straziante immaginare queste scene, pensare al terrore che Sian e i suoi figlioletti avranno provato nei loro ultimi istanti di vita. Ovviamente il principale sospettato in questa indagine per triplice omicidio è l'unico membro della famiglia che non è stato trovato nella proprietà, Arthur Simpson Kent, l'ex compagno di Sian e padre dei loro due bambini. La polizia non ha assolutamente dubbi che sia lui il colpevole, tuttavia non riesce a rintracciarlo da nessuna parte. Sembra che sia fuggito. La cosa che mi fa più arrabbiare è che è scappato, ha avuto la possibilità di scappare, perché la polizia non ha agito abbastanza, velocemente. Ha aspettato due settimane prima di iniziare a indagare su una scomparsa di una donna con due bambini piccoli. Io la trovo assurda questa cosa, ma proseguiamo. Parte così una massiccia operazione di caccia all'uomo. Nel frattempo il resto del bungalow viene perquisito dalla scientifica alla ricerca di altre prove. Le agenti notano che la casa è molto pulita e che quasi sembra sia stata ristrutturata di recente. Ispezionando le varie stanze, la polizia si rende conto che tutti i muri della casa sono stati recentemente riverniciati. A questo proposito, come magari ricorderete, va considerato che Arthur, il principale sospettato, lavora saltuariamente come pittore e decoratore. Forse si era rimesso all'opera sulle pareti di casa propria, nel tentativo di coprire eventuali tracce di sangue o DNA. La scientifica trova ugualmente delle prove usando il luminol, che sotto la vernice rivela molte tracce di sangue, probabilmente appartenuto sia a Sian che a Zachary e Amon. Questo prova che gli omicidi sono avvenuti all'interno della casa, poi i corpi delle tre vittime sono stati avvolti nella plastica e sepolti in giardino. Anche se non si sa esattamente quando siano stati commessi i delitti, la polizia ritiene che Arthur abbia ucciso la sua famiglia durante la sera del 14 dicembre o nelle ore notturni a cavallo tra il 14 e il 15 dicembre. In ogni caso, parliamo del giorno dopo che Sian era stata vista l'ultima volta dalla sua famiglia. Siccome i corpi sono stati scoperti tre settimane dopo la morte di Sian, Zachary e Amon, evidenziano un avanzato stato di decomposizione, dunque i patologi non riescono a indicare con precisione la data e l'ora dei decessi. Intanto continuano le ricerche di Arthur, un individuo chiaramente pericoloso. Gli investigatori ipotizzano che si è fuggito poco dopo che gli agenti erano andati a casa sua il 16 dicembre, cioè a seguito della prima denuncia di scomparsa da parte della famiglia di Sian e della segnalazione della Società Nazionale per la prevenzione della crudeltà sui bambini. La polizia ottiene delle testimonianze anche dai vicini di casa, i quali affermano che, non molto tempo dopo la visita degli agenti, avevano visto Arthur caricare delle valigie in un'auto. Arthur dunque ha fatto perdere le sue tracce, ma dopo un po' la polizia riesce finalmente a stabilire che era fuggito dall'Inghilterra nei giorni successivi agli omicidi. Si è rifugiato in Ghana, il suo paese d'origine nell'Africa occidentale. Arthur ha usato la carta di credito di un amico durante il viaggio, ovviamente ha evitato di utilizzare la propria carta perché la polizia avrebbe potuto rintracciarlo più velocemente. Arthur ovviamente non ha confessato al suo amico di aver ammazzato la sua ex compagna e i loro figli, ma gli ha chiesto in prestito la sua carta di credito accennando che era in seria difficoltà e doveva allontanarsi. La notte in cui è partito ha inviato un messaggio a questo amico scrivendogli Risalendo ai movimenti finanziari della carta di credito dell'amico, la polizia scopre che Arthur aveva preso un pullman da Londra a Glasgow, in Scozia. Da Glasgow poi era salito su un aereo che l'aveva condotto ad Amsterdam e infine da Amsterdam si era imbarcato su un altro volo che l'aveva portato in Ghana. Così una squadra di agenti raggiunge il Ghana e rivolge un appello alla popolazione con la speranza che qualcuno individui Arthur e riferisca alla polizia la sua precisa posizione. I cittadini del Ghana appoggiano la polizia e formano un gruppo di ricerca dell'assassino. Alla fine gli agenti riescono a trovarlo. Hanno ricevuto delle segnalazioni secondo cui Arthur si trova in un resort a Butre, un villaggio remoto lungo la costa dove si colloca anche Accra, la capitale del Ghana. Il 9 gennaio 2016, quando la polizia si reca sul posto, individua il 49 Arthur Simpson Kent nascosto dietro una grande roccia su una spiaggia mentre sorseggia il contenuto di una noce di cocco. Il latitante viene arrestato poco meno di un mese dopo gli omicidi. Il processo per estradarlo nel Regno Unito inizia immediatamente anche se alla fine non sono necessarie forzature perché Arthur decide di tornare volontariamente nel Regno Unito il 12 febbraio 2016. Una volta atterrato viene subito arrestato e accusato di tre capi di imputazione per omicidio. Nel giugno del 2016 Arthur, durante l'udienza di patteggiamento, decide di dichiararsi colpevole. Sa che negare sarebbe inutile, per questo ammette di aver sterminato la sua famiglia. Tuttavia, sostiene di non essere un mostro perché non aveva commesso il triplice omicidio a sangue freddo. Afferma che lui e Sian avevano un accordo. Era lei che gli aveva chiesto di ucciderla. Arthur spiega che, dopo che Sian aveva ricevuto la sua diagnosi di malattia terminale del moto neurone, gli aveva chiesto di mettere fine alla sua vita. Così avevano concluso una sorta di patto. Sian sapeva che prima o poi sarebbe morta, stava lottando duramente, ma ogni giorno si sentiva sempre più debole. Aveva la sensazione di non essere più in grado di fare nulla. Non poteva lavorare, non poteva guidare, non poteva prendersi cura dei bambini come faceva una volta. Sian quindi voleva morire, ma, sempre secondo la versione di Arthur, non se la sentiva di abbandonare i suoi figli, quindi gli aveva chiesto di eliminare anche loro. Arthur aveva accettato la sua richiesta, pianificando di mettere fine anche alla propria vita. Ma poi ci aveva ripensato. Aveva risparmiato se stesso. Nessuno crede alla sua storia senza senso. Sian non avrebbe mai scelto di morire così e mai avrebbe imposto la morte ai suoi figli. Li amava e si augurava soltanto il meglio per loro. Ma, per un attimo. Facciamo finta di credere ad Arthur. Accettiamo che lui e Sian fossero davvero arrivati a questo macabro accordo. Perché mai Arthur avrebbe dovuto ammazzare i suoi cari in quel modo barbaro? Perché gli aveva picchiati a morte quando avrebbe potuto eliminarli attraverso metodi meno feroci e dolorosi? La modalità di uccisione attuata indica che Arthur non intendeva affatto realizzare i desideri della sua compagna. Lui voleva che Sian e i piccoli soffrissero nei loro ultimi istanti di vita. Nessuno può credere alla versione dell'assassino. Il movente preciso per cui Arthur ha ucciso Sian e i loro due figli non è stato ufficialmente confermato dalle autorità. Tuttavia si crede che le motivazioni siano legate a questioni personali o relazionali tra l'omicida e la sua ex compagna. Infatti, come sappiamo, Sian, dopo aver ricevuto la diagnosi, aveva lasciato Arthur e aveva manifestato l'intenzione di tornare a vivere con sua madre. E di certo, lui non aveva accolto bene la sua scelta. Anzi, doveva essersi infuriato. Quest'uomo spregevole aveva picchiato Sian e l'aveva controllata in modo maniacale per anni. Lei finalmente ne aveva abbastanza e desiderava soltanto trascorrere il tempo che le rimaneva da vivere con i suoi figli e la sua famiglia. È vero, sì, Sian si stava indebolendo molto, era debilitata, ma sapeva che i suoi cari le sarebbero stati sempre vicino. E questo scredita maggiormente la versione di Arthur. Perché Sian, dopo aver accettato il supporto della sua famiglia, pronta a trasferirsi dalla madre, avrebbe dovuto chiedere al suo ex compagno di ucciderla prematuramente? Piuttosto Sian voleva vivere il resto della sua vita in tranquillità, insieme ai suoi affetti più autentici. Quindi viene teorizzato che Arthur fosse stravolto dall'idea di perdere tutto ciò che aveva. La sua compagna, i loro figli, che lei avrebbe portato via con sé, la casa in cui vivevano, i soldi di Sian su cui Arthur poteva sempre contare. L'aveva uccisa per impedirle di concedersi quel breve lasso di vita che le restava lontano da lui. Non sapremmo mai perché Arthur avesse deciso che anche i suoi figli dovevano morire. Forse perché dopo aver fatto fuori la madre non intendeva prendersene cura. Come sappiamo, dopo aver ucciso tutti e tre, Arthur aveva avvolto i loro corpi nella plastica, li aveva seppelliti in giardino, e infine aveva ridipinto i muri della casa per coprire le tracce di sangue. Nei giorni successivi, fingendo di essere Sian, aveva scritto e inviato dei messaggi dal suo cellulare alla sua famiglia. Facendosi per Sian, comunicava che la donna voleva essere lasciata in pace e che era andata a Cambridge con i figli per stare un po' da sola. Arthur, chiaramente, sperava che quella storia gli avrebbe fatto guadagnare tempo. Aveva anche preso la macchina di Sian, aveva guidato fino a raggiungere il quartiere di Bethnal Green per abbandonarla lì. Il fine era simulare che Sian si fosse davvero allontanata di sua volontà. Dopo che la polizia aveva bussato alla sua porta il 16 dicembre per fargli qualche domanda sull'ex compagna e i suoi figli scomparsi, Arthur aveva fatto le valigie ed era fuggito nel Ghana. Aveva usato la carta di credito di un suo amico per pagare il viaggio ed era riuscito ad arrivare in Africa il 19 dicembre, pochi giorni dopo i delitti. Infine è emerso che Arthur, durante le poche settimane trascorse in Ghana prima del suo arresto, si stava divertendo moltissimo. Usciva tutte le sere a bere, ma non per dimenticare chi aveva appena ammazzato la compagna e i propri figli. Non si era pentito per niente, infatti si mostrava solare, rideva e faceva battute e questo evidenzia ulteriormente quando sia sadico e indecifrabile quest'uomo. Si pensa che fosse uscito a festeggiare e a bere in Ghana perché in fondo sapeva che presto o tardi la polizia l'avrebbe trovato e arrestato. Era questione di tempo, quindi voleva sfruttare al miglio la libertà che gli era rimasta prima di passare il resto della sua vita dietro alle sbarre. Si ritiene che l'unica ragione per cui Arthur si è dichiarato colpevole durante l'udienza di patteggiamento consiste nel tentativo di aggiudicarsi una condanna più leggera. L'imputato sapeva che non aveva alcuna possibilità di cavarsela. Ebbene, per fortuna, nonostante tale dichiarazione di colpevolezza, Arthur non riceve assolutamente una pena più leggera. Nell'ottobre del 2016 il giudice condanna Arthur Simpson Kent all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Questo vuol dire che passerà il resto della sua vita in prigione. Arthur prova a fare appello alla sentenza perché la reputa troppo dura, ma la sua richiesta viene fortunatamente respinta. Il giudice lo considera un soggetto troppo pericoloso per essere rilasciato. Dopo la scoperta dei corpi senza vita di Sian e dei suoi due figli, vittime di un triplice omicidio, era emerso che l'unità della polizia metropolitana di Londra, che aveva indagato inizialmente, non aveva svolto per niente un buon lavoro. Infatti era stata coinvolta la commissione indipendente per i reclami della polizia. Come ricorderete, quando la famiglia di Sian aveva denunciato la sua scomparsa e quella dei suoi figli, per la prima volta supportata anche dall'intervento dell'NSPCC, la polizia aveva sottovalutato la situazione. Era andata a casa di Arthur, gli aveva fatto alcune domande e gli aveva creduto all'istante. I detective non avevano minimamente dubitato che lui stesse mentendo, anche se la famiglia di Sian gli aveva avvisati dell'inaffidabilità di Arthur, che era un uomo violento con una personalità dominante. La polizia aveva gestito davvero incautamente la prima indagine e soltanto dopo settimane dalla scomparsa di Sian e dei bambini erano entrati in azione gli agenti. Ma questa mancata prontezza di intervento è da considerarsi davvero grave, perché è noto che nel gestire i casi di persona scomparsa, le prime 48 ore sono fondamentali. Certo, purtroppo in questo caso Sian non sarebbe stata trovata viva ugualmente, ma un'indagine iniziale più approfondita avrebbe permesso di trovare prima i corpi delle vittime e probabilmente Arthur non avrebbe avuto la possibilità di scappare. Inoltre la polizia avrebbe potuto anche risparmiare alla famiglia di Sian delle settimane distruttive, infernali, trascorse all'oscuro della verità. A Natale, quando Sian non si era fatta sentire, i suoi parenti avevano già immaginato il peggio. Sapevano che lei e i suoi figli non sarebbero stati trovati vivi. Un articolo che ho consultato suggerisce però di esaminare la situazione da una prospettiva diversa. Siccome il caso si è verificato intorno al periodo di Natale, c'erano meno agenti in servizio per via delle ferie e meno risforce a disposizione. La situazione infatti si è sbloccata proprio con l'arrivo dell'anno nuovo, quando l'auto di Sian è stata scoperta il 3 gennaio del 2016. Ma la prima denuncia di scomparsa era stata asporta dalla sua famiglia il 13 dicembre 2015. Inoltre, credo sia necessario mettere in evidenza che questo caso coinvolgeva anche due bambini. Quindi la polizia, a prescindere dal periodo, avrebbe dovuto destinarvi la massima priorità fin dall'inizio. Invece, un intervento attivo è stato effettuato con grande ritardo e ricorrendo alla Commissione Indipendente per i Reclami della Polizia. A questo proposito, vi leggo una dichiarazione della Polizia Metropolitana. La Polizia Metropolitana ha effettuato, oggi mercoledì 6 gennaio, un deferimento volontario alla Commissione Indipendente per i Reclami della Polizia in relazione all'indagine sulla scomparsa di Sian Blake. Un primo esame ha evidenziato alcuni potenziali problemi riguardanti la gestione e classificazione dell'indagine sulle persone scomparse. La direzione degli standard professionali è stata informata lunedì 4 gennaio e sta lavorando con la squadra investigativa per comprendere appieno la cronologia delle interazioni della Polizia con la famiglia. L'esito di tale revisione è che la Polizia Metropolitana di Londra ha ammesso i suoi errori nel non indagare tempestivamente sulla scomparsa di Sian Blake e dei suoi due figli e nell'aver sottovalutato il rischio per la loro sicurezza. Pare che le critiche abbiano portato a dei cambiamenti nei protocolli di gestione dei casi di persone scomparse e alla revisione delle procedure di risposta della Polizia davanti alle segnalazioni relative alla sicurezza di individui vulnerabili. Mi auguro che sia davvero così, che la Polizia eviti di commettere ancora certi gravi errori. Una risposta rapida ed efficace da parte delle forze dell'ordine di fronte a segnalazioni di potenziale pericolo è fondamentale per la sicurezza delle persone. E poi c'è un'altra risposta che mi tormenta sempre quando approfondisco casi come questo. Quella che prova a spiegare perché un uomo punisce con l'omicidio una donna che lo ha semplicemente lasciato in più annientando ferocemente anche i propri figli. E questo ci porta alla fine di questo video. Io ho finito di parlare in questo video, trovo che questo caso sia straziante a dir poco questo uomo è terribile, non riesco davvero a capire perché sia arrivato a questo punto onestamente. Ci sono anche di mezzo due bambini piccoli, quindi davvero è orribile tutto ciò. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se lo conoscevate, quali sono le vostre idee, le vostre riflessioni, insomma scrivetemi quello che volete. Io vi leggo sempre molto molto volentieri. E nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!